Pare si sia risolta ancora una volta la situazione per i lavoratori di Pian del Lago che dopo le giornate di sciopero a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre adesso possono tirare un sospiro di sollievo. Avrebbero infatti ricevuto grazie all'intervento della prefettura le somme relative a tre mensilità pregresse e che non erano state pagate. Una notizia accolta benevolmente dal sindacato. Finalmente un po' di luce alla fine delle tunnel. Per questo dobbiamo però dirlo e ci sentiamo di ringraziare la prefettura, gli uffici della prefettura e in primis Sua Eccellenza il prefetto. Almeno queste persone potranno farsi il Natale perché sono certo che prima di Natale non prenderanno più nulla. Alla fine c'è da considerare che siamo in cambio appalto quindi speriamo che con il nuovo appalto le cose migliorino. Noi ci staremo ancora molto più attenti perché altrimenti è una condizione che non si può protrarre nel tempo. Tre mensilità vorremmo precisare sono luglio, agosto e settembre quindi non è un credito che risale a ieri ma è già lontano. Siamo soddisfatti perché riteniamo che anche le giornate di sciopero sono state proficue, l'ascolto di Sua Eccellenza è stato accettando proficuo. Dobbiamo dire che il 31 eravamo quattro organizzazioni sindacali mentre il giorno 2 siamo rimasti in due ma ci siamo fatti sentire ugualmente. E siamo oggi conviaggiuti finalmente. Sulla questione interviene anche il prefetto Nisseno che esprime soddisfazione perché pur tra le tante difficoltà si è riusciti a venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Precisa la speranza è che la situazione possa trovare soluzioni definitive e più stabili a breve.